Buongiorno a tutti, questo è un breve video per farvi vedere come riesci a togliere le batterie da un dispositivo che usiamo per il Piedibus Smart. Ho con me oggi un dispositivo da dove togliamo le batterie, una monettina di un centesimo e qualcosa che è abbastanza sottile e non di metallo, in questo caso il tappo di un bic. Questo mi aiuta a togliere la batteria. Quindi cominciamo per aprire il dispositivo. Lo prendo in mano e vi faccio vedere che in alto sulla parte curva c'è questa fissura. Questo qua è abbastanza grande per inserire la nostra monettina. Quindi lo faccio, diamo un leggero giro e si apre il dispositivo che è chiuso solo a pressione. Togliendo il coperchio prendiamo in mano il dispositivo e vediamo che qui in alto ci sono le due batterie. Di nuovo questi sono solo a pressione, quindi il nostro obiettivo è di spingere fuori di queste chiusure. Quindi inseriamo il nostro coso sottile, in questo caso il bic, solo finché riusciamo di spingere fuori la batteria e togliendo con la mano. Facciamo sempre dall'altro lato perché sono due batterie. spingo e tolgo così. Per rimettere tutti questi pezzi insieme prendo la parte bassa e vi faccio vedere che dove c'è la curva metto le parole blue up del dispositivo. Questo mi fa la direzione giusta. Poi rimetto il coperchio così e chiudo con un clic. Basta così. Poi se posso suggerire, suggerisco di mettere le due batterie così con un pezzo di scotch intorno così non vanno in giro per la casa e rimane tutti insieme. Adesso faccio veloce nell'altra direzione per rimettere la batteria. Di nuovo prendo la parte con la fissura e con la monettina, inserisco qua e lo giro. Una cosa abbastanza facile. Poi togliendo il coperchio, prendendo il dispositivo in mano, rimetto la batteria sempre con la parte dove è scritto più sulla batteria, metto quello verso di me da entrambi delle lati, più e più. Poi di nuovo la parte dove è scritto blue up, sulla parte curva del nodo, poi il coperchio sopra e chiuso con un clic. Basta così. Grazie e buona giornata.